Sindaco, perché una città come Napoli non può vivere di turismo come le grandi metropole europee, nonostante la sua storia e la sua cultura? Sindaco, come lei ritiene che Napoli possa diventare un centro culturale nel Mediterraneo, soprattutto per i giovani? Napoli sta già diventandolo, come orgoglio, è un merito di tutti i napoletani, la capitale culturale del Mediterraneo sta ritornando a essere uno dei luoghi culturalmente più attraenti del mondo. Ricordiamoci che tre anni fa, quando venne eletto in piena emergenza di fiuti, non c'era un turista a Napoli, erano rarissimi gli eventi culturali, adesso siamo inondati di turisti, siamo pieni di eventi culturali, lo saremo sempre di più. Convinciamoci che con la cultura si mangia, con la cultura si fa economia, con la cultura si crea lavoro e io penso soprattutto ai giovani. Quindi puntiamo tantissimo su Napoli capitale della cultura, Napoli punto di riferimento, Napoli città dei giovani, ecco l'obiettivo strategico più importante, Napoli che possa diventare un luogo in cui andare, soprattutto per i giovani, perché è economicamente vantaggiosa, perché è una città affascinante, perché è una città anche economica rispetto a altre, perché è una città che vive 24 ore. Insomma andate anche a verificare, dico spesso in altre città d'Italia, magari più blasonate, dove alle 11 di sera trovi le trattorie già tutte chiuse. Napoli è una città vive, è una città in movimento, è una città che punta molto sulla cultura, quindi in questo io spero molto, conto molto sull'aiuto anche dei giovani. Si può fare qualcosa in modo che questa città resti con me e che si continui a parlare il napoletano e che venga valorizzato l'autenticità, la lingua, la napoletanità di questa città bellissima. È possibile praticamente valorizzare ancora di più tutto il nostro patrimonio culturale, artistico e anche storico? Ma io credo dobbiamo anche pensare a forme di sponsorizzazione. Per il rilancio del nostro patrimonio culturale non possiamo attendere solo risorse pubbliche che non arrivano, non arrivano da tempo. Il governo negli anni ha preferito comprare gli F35 invece di investire nella cultura, ha preferito fare la TAV in Val di Susa invece di investire nella cultura, ha preferito progettare il ponte di Messina invece di investire sulla cultura. Pensiamo quindi anche a forme di investimenti di imprenditori lungimiranti che vogliono insieme al pubblico tutelare il patrimonio della nostra nazione, che poi è il patrimonio di tutti, è un patrimonio dell'umanità. Quindi tutte le risorse virtuose sono ben accette quando si tratta di valorizzare il patrimonio culturale. Noi la nostra città lo stiamo facendo, con un bando pubblicato alcuni mesi fa abbiamo ottenuto circa 3 milioni e mezzo di sponsorizzazioni per il restauro di ben 27 monumenti della nostra città. Grazie. Grazie. Grazie.